I parchi del Ducato sono in prima linea per portare avanti questo grande obiettivo di certificare questo territorio rivierasco al Po con riconoscimento mabunesco. Un grande riconoscimento per valorizzare un territorio ricco di eccellenze, non solo dal punto di vista ambientale e paesaggistico, ma anche dal punto di vista culturale, ricco anche di una grande gastronomia e di straordinari prodotti tipici. La nostra presenza è una presenza qualificata, siamo gestori del Parco del Trebbia, di due riserve, stiamo per istituire un paesaggio protetto nelle valli di Novellara e quindi vogliamo contribuire con le nostre competenze e vogliamo soprattutto valorizzare quello che si è venuto a creare, una grande aggregazione di enti, più di 60 comuni, 4 province, 2 regioni, che ha un valore straordinario ed è il modo migliore per ottenere un rilancio di questi territori.